Innanzitutto vorrei ringraziare la società per avermi dato questa opportunità grandissima per me. Chiaramente ringrazio il direttore insieme alla società per avermi scelto. Io credo di essere un privilegiato oggi perché sedere nella panchina della regina è un privilegio. Privilegio che vorrebbero essere molti al posto mio. Quindi in questo momento mi sento un fortunato. Non c'è stata praticamente trattativa col direttore perché io volevo venire a Reggio, l'ha detto lui, lo confermo io. Siamo messi d'accordo subito. L'unica cosa errata che ha detto è che non sono ricco di famiglia quindi le cose me le devo guadagnare come tutti. È chiaro che mi fa piacere rivedere delle facce amiche dopo tanti anni. Io qui mi sono sentito a casa da giocatore e spero di fare altrettanto da allenatore. Per me venire qua quando sono venuto da giocatore è stata la mia svolta professionale. Per la mia carriera spero che lo sia anche da allenatore. Chiaro che ci aspetterà un anno difficile. Io le uniche cose che ho chiesto al direttore sono state quelle di prendermi giocatori che abbiano voglia di lavorare.